E' approdata al porto di Porto Empedocle The World, la nave degli uomini più ricchi al mondo. Fino a martedì 4 ottobre la nave da crociera di proprietà privata sarà attraccata allo scalo marittimo Empedoclino. Dai suoi lussuosi ponti sono sbarcate oltre 100 persone accompagnate con alcuni pullman in visita alla Valle dei Templi. Tra gli ospiti gli uomini tra i più facoltosi del pianeta, con le proprie famiglie. La The World vatte bandiera delle Bahamas ed è lunga 197 metri, larga 30, con 12 ponti e può ospitare 1200 passeggeri. Ma a bordo ci sono in totale 150 famiglie e di 20 nazionalità diverse. La prevalenza è statunitense, mentre il resto è diviso tra europei, asiatici, australiani, sudamericani e nordafricani. La DMO, distretto turistico Valle dei Templi, si occuperà dei servizi a terra per segnalare tra le più interessanti e attrattive del territorio con un occhio speciale all'esclusività e all'eccellenza. Sarà un'occasione per valorizzare l'intero territorio distrettuale e la costa del mito. Gli appartamenti della nave sono finemente arredati, con salotti, ampie camere e cucine private. Il costo delle cabine varia da un milione di dollari fino a raggiungere la cifra record di 12 milioni di dollari. A bordo ci sono quattro ristoranti con chef di alto livello, negozi, stanze da biliardo e simulatori di golf, centri fitness, campi da tennis, pista di jogging, centri benessere, due piscine, la Clinique La Prairie che offre trattamenti orientali, una biblioteca, il cinema, il teatro e un grande bar per gli aperitivi al tramonto.